Radio Puggini On Air Radio Puggini On Air Perché non parli? Un pezzo pungente, ironico, ma allo stesso tempo profondamente critico, che tocca uno dei nodi centrali della politica italiana, il ruolo di Matteo Renzi e l'attuale leadership di Elislein all'interno del Partito Democratico. Travaio non fa sconti e ci guida in un'analisi lucida e spesso tagliente delle dinamiche interne al centro-sinistra. Vediamo insieme cosa da dirci, iniziando da un estratto di questo editoriale che poi potete leggere completamente, insomma l'editoriale completo naturalmente sul sito del Fatto Quotidiano. Dice Travaio, da una parte c'è il favoloso mondo di R, ossia Renzi, tutti gli elettori progressisti non vedono l'ora che il pecorone smarrito ritorni all'ovile, ma quel cattivone di Travaio non vuole. Dall'altra c'è la realtà, prima ancora del cattivone dei perfidi 5 stelle AVS e chi più ne ha più ne metta, i più inferociti all'idea di ritrovarselo tra i piedi sono i militanti e i votanti PD, che sfruttano ogni occasione per gridarlo. Travaio dunque inizia con un'ironia sottile ma affilata, dipingendo il favoloso mondo di R, ovvero Renzi, come una narrazione quasi favolistica dove i progressisti lo attendono come il pecorone smarrito che ritorna all'ovile. Ma subito dopo, con una maestria retorica che gli è caratteristica, contrappone questa visione idealizzata alla realtà. E qual è la realtà? Che tra i primi ad essere infuriati dall'idea di un ritorno di Renzi non sono né i 5 stelle né la sinistra radicale, ma tra i primi ci sono proprio i militanti e i votanti del Partito Democratico. Qui Travaio non si limita ad un semplice attacco contro Renzi, piuttosto ci offre uno spunto di riflessione più ampio sulla base elettorale del PD che sembra ormai disconnettersi dalle scelte dei suoi leader. L'ironia dell'editorialista si fa tagliente quasi a voler denunciare una scissione tra i vertici del partito e i suoi sostenitori. E scrive ancora Marco Travaio. Alla festa nazionale dell'unità la gente snobba la Boschi, ma alla fine viene pure dissuasa dal tour nelle cucine e fa una fuga all'inglese. Poi arriva Gentiloni, parlandone da sveglio, scortato da Johnny Riotta e prende subito fischi per le supercazzole su Ucraina ed Israele. Ma il giornalista a guardaspalle, noto democratico, minaccia i contestatori. Ai tempi delle feste dell'unità vi avrebbero già buttati fuori. In questo passaggio Travaio ci racconta una scena dir poco grottesca dalla festa dell'unità, dove Maria Elena Boschi viene snobbata dai partecipanti e addirittura dissuasa dal fare il classico tour nelle cucine. E qui la narrativa si fa ancora più critica quando entra in scena Paolo Gentiloni, accompagnato da Giovanni Riotta, il giornalista a guardaspalle, così lo definisce Travaio, che difende il politico di fronte ai fischi dei partecipanti. Travaio evidenzia, con la sua solita ironia, come le dichiarazioni di Gentiloni su temi cruciali come l'Ucraina e Israele, dunque le guerre in atto, siano percepite come supercazzole. Termini che evocano un linguaggio incomprensibile, lontano dai problemi reali della gente. Travaio usa il sarcasmo per suggerire che la leadership Dem si trova sempre più isolata e fuori contatto con la base, come dimostrato dai fischi ricevuti. Riotta, con la sua minaccia di buttare fuori i contestatori, non fa altro che peggiorare la situazione, evocando un'immagine autoritaria e nostalgica di una festa dell'unità che ormai sembra molto distante dall'inclusività di un tempo. Scrive Travaio, per migliorare la sua posizione lo statista letargico l'aggrava. Fa molto bene l'ageline a lanciare un appello all'unità a tutte le forze di centrosinistra, inclusa i V. Senza i V e azione non vinciamo le elezioni, ossia senza Renzi e Calenda, e viene sommerso dai V, a parte il fatto che in tutti i sondaggi Renzi e company fanno perdere il triplo dei voti di quelli che portano, commuove l'idea circense che il commissario europeo uscente e dormiente ha del campo largo. Venghino, signori, venghino, più gente entra, più bestie si vedono. E qui il bersaglio principale è Gentiloni, definito sarcasticamente statista letargico, che cerca di migliorare la sua posizione sostenendo l'appello all'unità di Elislein. L'idea di un'alleanza con Italia viva e azione, secondo Gentiloni, è indispensabile per vincere le elezioni. Ma Travaglio, con la sua consueta precisione, non solo sottolinea l'assurdità di questa tesi, ricordando che secondo i sondaggi Renzi e suoi porterebbero più voti in fuga che a sostegno, ma paragona questa strategia ad un circo. Il campo largo diventa così una sorta di spettacolo grottesco dove più gente entra, più bestie si vedono. L'uso del termine bestie non è casuale. Travaglio sembra volerci dire che il centro-sinistra rischia di diventare una fiera dove le forze politiche, più che unire, finiscono per alimentare la confusione e l'incoerenza. La metafora del circo evoca un'immagine di caos e spettacolarizzazione che sembra adattarsi perfettamente ad una politica sempre più distante dalle reali necessità dei cittadini. Scrive ancora Travaglio, solo che gli elettori non ne possono più di bestie rare o ammaestrate dai soliti noti. Per giunta non leggono i giornaloni che da mesi lanciano gentiloni come Leader Dem o Federatore del Campo Largo. E con le loro infallibili antenne per captare gli umori della gente sognano accanto al PD l'innominabile Oggi e Tajani Domani. Dunque Travaglio qui critica speramente una parte della stampa che secondo lui continua a sostenere candidati come gentiloni descritti come salvatori o federatori del centro-sinistra. Ma la realtà, sottolinea l'editorialista, è che gli elettori stanchi di queste figure rare o ammaestrate sono ormai lontani dai racconti che emergono dai giornaloni. Infine Travaglio denuncia l'idea pericolosa che il PD possa immaginare di avere accanto figure come l'innominabile, una chiara allusione a Renzi, Oggi e Tajani Domani. Questa ironica visione di un PD pronto a stringere alleanze con chiunque, pur di mantenere il potere, rivela il grado di disconnessione tra i leader e la base. Un tema che ritorna con forza in tutta l'analisi di Marco Travaglio. Leggiamo allora l'ultimo breve estratto da questo editoriale. Travaglio ci dice appena Gentiloni esce alla festa di Reggio Emilia entra Conte accolto da applausi che diventano ovazioni quando dice che di Renzi non si fida e chiede al pubblico che ne pensa. Chiude la partita Bersani alla festa del fatto dicendo Caraelli sei sicura che il PD è vaccinato da renzismo? Se sei sicura fai come ti viene, ma sei sicura? Il contrasto tra Gentiloni e Conte in questo passaggio non potrebbe essere più netto mentre Gentiloni viene accolto con freddezza e fischi, Conte viene salutato con applausi e ovazioni, soprattutto quando esprime apertamente la sua sfiducia e Renzi. Infatti mi domando ma perché a questo punto Conte non lascia il Movimento 5 Stelle, anzi non lo lascia in pace risparmiandogli la distruzione totale e va col PD, diventa leader del PD. Forse al PD serve un leader come Conte. Dunque questo passaggio non è solo un episodio di folklore politico ma rappresenta la spaccatura profonda che esiste oggi tra chi vede i Renzi una figura da cui prendere le distanze e chi invece cerca disperatamente di riportarlo al centro della scena politica. Bersani alla festa del fatto quotidiano mette ulteriormente in evidenza questa spaccatura con una domanda retorica e potente. Dice Caraelli sei sicura che il PD è vaccinato dal renzismo? Se sei sicura fai come ti viene, ma sei sicura? E spiega che Renzi non è un compagno che ha sbagliato e ora va accolto col vitello grasso. Dice lì c'era un disegno politico che girava con una circolazione extracorporea. Il progetto era di fare del PD la forza Italia dei tempi moderni, tagliando le radici di tutte le sinistre. Siamo sicuri di essere vaccinati? E aggiunge che Renzi ce lo stanno buttando in casa. Ma siamo proprio fessi? Ecco dunque il cuore della riflessione di Bersani, come riportato da Travaio, non è solo una questione di opportunità tattica, ma di identità politica. Bersani si chiede se il PD sia davvero immune dal renzismo, non come una corrente ideologica qualsiasi, ma come un vero e proprio disegno politico teso a trasformare il Partito Democratico nella versione moderna di Forza Italia, sradicando ogni legame con la tradizione della sinistra. Travaio riportando queste parole ci induce a riflettere sul pericolo di accogliere di nuovo Renzi senza considerare i rischi di un ritorno a quel modello di leadership. Ecco io molte volte ho detto qui a Radio Fuggino NER, Conte sembra proprio il Renzi, ora all'interno del Movimento 5 Stelle, Conte sembra il cavallo di Troia che vuole distruggere il Movimento 5 Stelle così come lo è stato Renzi per il PD. Forse è proprio per questo che gli elettori del PD che continuano a votare il PD, nonostante ormai conoscano bene il PD, quindi continuano a fare lo stesso errore e continuando a fare gli stessi errori probabilmente accoglierebbero anche un Conte non rendendosi conto che potrebbe essere pericoloso quanto Renzi anche perché lo sta dimostrando all'interno di un altro movimento. Ma leggiamo davvero l'ultimo estratto da questo editoriale di Travaio che dice oggi la Schlein che ha stretto un patto con Renzi senza dirlo a nessuno né spiegarne le clausole o il motivo dovrà rispondere alla festa dell'unità sempre che le pongano la domanda. Noi come sempre l'avevamo invitata alla nostra festa, lei per la prima volta ha declinato forse perché noi la domanda gliel'avevamo fatta ma prima o poi dovrà parlare chiaro, non a noi, ai suoi elettori. Il finale di questo estratto finale che vi abbiamo letto dall'editoriale di Travaio si concentra dunque su Ellie Schlein e il suo silenzio riguardo al patto non dichiarato pubblicamente con Renzi. Travaio sottolinea la mancanza di trasparenza evidenziando come la Schlein debba ancora rispondere ai propri elettori su questa mossa che per molti rappresenta un ritorno ad un passato che il PD avrebbe voluto lasciarsi alle spalle. L'assenza di Schlein, la festa del fatto, per la prima volta viene interpretata da Travaio come un segnale. Forse, dice lui, non si è presentata perché sapeva che lì le sarebbe stata posta proprio questa domanda scomoda. Ma come conclude Travaio, prima o poi dovrà parlare chiaro, non ai giornalisti ma a quegli elettori che attendono chiarezza sulle scelte fatte. Ed eccoci alla fine di questo episodio in cui abbiamo analizzato questo editoriale intenso e ricco di spunti in cui Travaio, come sempre, non risparmia nessuno ci offre un'analisi tagliente delle dinamiche interne al Partito Democratico e del centrosinistra. Il messaggio che emerge con forza è la necessità di trasparenza e coerenza da parte di Ellie Schlein che ha scelto di stringere un patto con Matteo Renzi senza spiegare chiaramente le ragioni e le condizioni di questa mossa politica. L'immagine che Travaio dipinge del renzismo è tutt'altro che positiva ed è scritto come un progetto politico capace di far deragliare il PD dalla sua identità originaria di sinistra, come già lo è stato in passato, trasformandolo in una nuova forza Italia. Bersani, ripreso con attenzione da Travaio, ci ricorda che Renzi non è semplicemente un compagno di partito che ha fatto degli errori e ora merita il perdono, ma rappresenta una visione politica che ha cercato di sradicare i valori fondanti della sinistra stessa. Il silenzio di Schlein è per Travaio una questione fondamentale. La sua leadership è messa in discussione da un patto che rischia di alienare gran parte dell'elettorato di sinistra che ha già mostrato apertamente la sua differenza nei confronti di Renzi e delle sue politiche. La metafora del vaccino dal renzismo, evocata da Bersani, è potente. È il richiamo ad una malattia politica che ha già segnato profondamente il PD e da cui il partito deve prima di tutto dimostrare di essere davvero immune, prima di poter immaginare nuove alleanze. E Travaio non si limita a fare la cronaca degli eventi politici, ma invita a riflettere su una questione più ampia. Quale futuro aspetta al centro-sinistra italiano se continua a fare compromessi con figure politiche che, come dimostrano i sondaggi, allontanano più voti di quanti ne portino e soprattutto quanto a lungo la Schlein potrà restare in silenzio di fronte a una base sempre più scettica. In conclusione Travaio ci lascia una domanda. Riuscirà la Schlein a rispondere ai suoi elettori o continuerà ad evitare il confronto su una questione così cruciale per il futuro del suo partito. Non resta che attendere per scoprire quale direzione prenderà la leader del PD e se sarà in grado di tenere unita una base sempre più frammentata ed incerta. E questo editoriale di Marco Travaio ci offre uno spaccato complesso e articolato delle tensioni politiche interne al centro-sinistra, in particolare al Partito Democratico. Come sempre il giornalista usa il suo stile diretto e sarcastico per esporre le contraddizioni e le sfide che il partito si trova ad affrontare. Quella che inizialmente può sembrare una questione interna, la relazione tra Schlein e Renzi si rivela essere in realtà un tema centrale per la sopravvivenza politica del PD e la sua capacità di rappresentare un vero e proprio campo progressista che non si pieghi a compromessi con figure che molti elettori considerano come strane o persino ostili ai valori della sinistra. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi, vi terremo aggiornati su ogni novità, grazie per essere stati con noi in questa puntata speciale di Radio Pugino NER al prossimo episodio e andate a leggere l'articolo completo di Marco Travaio sul Fatto Quotidiano.